Intanto intendo esprimere la mia soddisfazione, i miei complimenti alla società Ternana Calcio, ai giocatori, all'allenatore per la importantissima vittoria di ieri contro il Catanzaro che ci permette di poter concorrere ancora per una salvezza diretta. Per il resto ho sentito l'ennesima intervista su Telegarileo del sindaco Bandecchi, il quale asserisce che lui è a lavorare e che i politici vanno allo stadio a farsi vedere. A farsi vedere ci vanno anche i politici del tuo partito, perché l'assessore Schenardi ad esempio c'è sempre e secondo me fa bene. Per il resto, caro Bandecchi, abbiamo due modi di interpretare la politica, le istituzioni e il ruolo del sindaco differenti. Tu ritieni che il sindaco pagato 11.000 euro lordi al mese dai cittadini del Capolago Terri debba essere a lavorare a Livorno, a Trento, al Reggio Calabrio, in Sicilia, a far campagna elettorale? Io invece ritengo che dovrebbe essere a Terni, a Palazzo Spada, a inaugurare gli eventi della città, a essere presente alle manifestazioni della città, cosa che tu non fai mai e debba essere presente anche allo stadio a sostenere il club calcistico, la principale realtà sportiva del territorio, soprattutto nei momenti difficili, facendo vedere questo affetto, facendo vedere questo amore per i colori rosso-verdi anche nei fatti concreti e non soltanto nei video messaggi. Grazie.